Ben ritrovati! Alla parola casa il vocabolario spiega ambiente o complesso di ambienti che rappresenta il luogo in cui una persona o una famiglia vive abitualmente. Beh, in realtà non ci serve il vocabolario per conoscere cosa significa casa, ma leggerne la definizione a mio giudizio ne rafforza l'importanza. Questo perché un luogo in cui si vive abitualmente, come dice il dizionario, è un luogo a cui bisogna dedicare un'attenzione particolare, che è poi quello che cerchiamo di fare in ogni puntata con tanti servizi in cui intervistiamo per voi gli esperti del settore.